che hai detto? non mi fanno tanto io? mi fanno tanto non mi fanno tanto non mi fanno tanto non mi fanno tanto ma non mi fanno tanto buonissima la liquidistica ma rimane è posto facciamo i video, facciamo i video facciamo i video, facciamo i video facciamo i video ora dame un po' di menta andalo quella che tu sei a nebbia facciamo un po' di pignone eh? chugo 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 chugo